Allora, exit e restarto, calmo. Prima che la gente si menipa. Ehi fan, proprio crazy. Ragazzi, ti sto piangendo. Sì, sono già innamorati. T'ha detto che sei gnocca, mica t'ha detto cose strane. No, vabbè, ok, d'accordo, meno male che non mi dico che sono un cesso. Per quello basta che stremmo io. Scemo. Scrivi, oh, ciao, rotte in banana, scrivi. Rotte in banana. Non riesco a fare niente, sono stompata, immobile. Lui non è fermo qua, adesso ti tiro un calcio. Ma tra l'altro io lo vedo fisico, è quello il bello. E ha giotto il tecnico di ste cose. Eh, ma Zotto mi ha già detto tutto quello che devo fare, non è che... Come? No, dicono che sei il tecnico. Dicono che sei il tecnico. Dicono. Comunque adesso... Oh, 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 ho visto... Sei davanti a me? Sì. Ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo volerti. E mi sposto? Sì, ciao, mi sposto anch'io. Cosa sto facendo? Ti stai spostando verso la porta. Ti sei acquattato. Ho aperto la porta. No, non basta, è fine. No, è finito l'idilio. Un'idilio. Sento smash la risonvene non arrivo. No, perché hai chiuso la porta? Perché ho cercato di aprirla sperando che andasse, ma lo ti può aperto a cinque minuti fa. Sei, I love, ma c'è che cosa vuole dire, ma c'è che sei. Cosa vuole dire, ma c'è che sei. Cosa vuole dire? Eh, eh, furtino. In polacco vuol dire ventre gonfio, non credo che... Il ventre gonfio, sì, sì, ti bacio proprio il ventre gonfio. Stavo godendo con un riccio. Il sceltatore fa... Oh, 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 oh. Non so veri. Ma oh, come cazzo è? Ma eccolo, ma oh, vieni qua, ma cazzo. Ragazzi, io non sto picciando addosso, però non riesco a giocare. L'hanno scritto. Dice, spegni dei suoi e fai una full screen della tua camera, buonanotte. Ma fai un unboxing del reggiseno, fai. L'unboxing del letto che c'è dietro. Allora così si monta il letto, così si monta la coperta. È un unboxing di un mobile di Ikea. È un unboxing di un altro letto di svedese. In realtà è un comodino. Ok, niente, William & Mary Me, va bene. Un altro che mi vuole scusare. Facciamo che esco da sto gioco del pifero. Facciamo che mi dobbiamo piantarmi un paio di tette per stimare su Twitch e avere successo. Adesso, amore, cosa vuoi fare? Battlefield o LOL? No, andiamo su Battlefield, dai. Ma io ho bevuto due volte e ancora sei triste. Hai letto, non ho scritto. Sto piangendo. Uno ha scritto guardando stream invece che avere appuntamenti dal vivo con ragazze. Questo è come io difendo la mia verginità. Ciao. 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 Ciao, Vati. Ciao. E' così che trovo il mio colpo Gesù, guardando gli stream. Ti giuro è troppo bella, la chat troppo. No, quella di oggi veramente supera qualsiasi cosa, giuro. Sono pronto il giorno, mi lavoro. Bene, sono già morto. Io anche. Anche. C'è Angela che sta pisciando ad osa, tra l'altro. Sì, sto morendo. Aggiungo la tua foto nella mia cartella fappa. Cos'è? Cartella fappa. Fappa fappa. Whatta? No ragazzi, non ce la faccio io a giocare così vero. Perché premi il grilletto random. Amor mio. Fappa fappa. Porco. Me l'ha girato in pancia. Adesso gli faccio vedere, aspetta che gli faccio vedere il mini poni rosa. Li faccio impazzire. Adesso voglio vedere cosa dicono. Angel guarda il mini poni, quanto è bello. Vai, vai, vai. Perché il mio logo d'altronde è anche in Battlefield. E spiega che fai vedere perché è il tuo logo. Magari, altrimenti sembra una bimba minchia. Che bello! Ma che brutto è. È bellissimo. Sì. E sono tutti tranquilli, tutti sereni. Sono dei maniaci della tua. Beh, ma è ovvio. Vogliamo vedere le tue tette e non il piccolo poni. Tette! Avrete solo il poni purtroppo oggi. Ah, yeah. Ogni tanto spuntano ma molto rari i commenti sul gioco. Sì, del tipo, ah sì, anch'io uso il deathmatch. Ah, che bello. Sì, Rasha, che carino, Rasha. Ma è finito di morire, per Dio. Eh, è micido. Ma non parlo con te, parlo con tutti. Scoglione! Aia! Ayaya! Sinistra, sinistra, sinistra! Non ho veramente di tutte le spalle in tank. Ayayayaya! E basta. Mi ha venuta da solo un livello. Che morte di merda Allora In che città sei? Non si capisce Sono a Vibor, penso Devrei essere a Vibor Perché no? Perché ci sono anch'io e non ho voglia Vabbè, allora, ok Molte idee, bene Ora avrei mille e mille post Ah, ma io non so qual è il profilo Facebook di Angela Io so qual è il profilo Ti ho appena visto correre Come mi hai appena visto correre, vada fa Adesso ti sparano e tu muori Attento alla base c'erano due tizi Prima tranquillo, li faccio fuori tutti Io sto ammazzando tutti di coltello Kamenka Oh madonna, aiuta Ah, vaffanculo Verso Komapowo Komarowo Dove stai andando a Zotto? Eh, verso Komapowo Ma vai a fanculo, va Mi sono distratta un secondo Ma porco Dai, io puntami allora Ti aiuto che devi tenere il sole alto culo E decidere che case visitare Io le voglio fare tutte Nooo Non devo spawnare nel puttantrur qua Oh, ma questo ne abbiamo uno di fianco Non si è mai accorto È un fratello Zotto Uè, fratello Darkshidado Guardatevi il video sull'agolo di verso Sì, è la voce più che si è una femmina Ma vaffanculo Ah, grazie Lei non lo è per tutti È io per me Ma no, va bene Vabbè, mi ucciderò tutti Nooo È stato fatta regalare il server da Angela Ok, Angela Angela, scattare Ti vengo a prendere Ti regalo Ti regalo una banana Sì, un attimo Sì, un attimo Ha detto sì, un attimo Vuol dire che lo farà Sì, un attimo O l'aeroporto Come? La base militare o l'aeroporto? Dove si trovano? La base militare all'aeroporto? O l'aeroporto Eh Aspetta, balocca Ma di quali? Quella lì a... Non lo so, dimendi uno C'è un tizio che me lo sta chiedendo Ah, di lì di seguire la costa E tenere il mare sulla destra Di succare brutalmente Attacchi terroristici Sulla chat di Ezzotto Io ho avuto una botta di laghi immensa Si risposta a questo spazio Adesso si esce fuori la scritta Con scritto Noi siamo Anonymous E tu sei stato bandato Mazo per essere fine con le ragazze Devi dire posizionati a pi greco mezzi Che mullo avrà studiato Non dirlo, non dirlo Perché? Eh, vabbè, arriva l'altro che sveglio come una capra invece Pi greco mezzi dovrà Eh, è 90 gradi, no? Ma va? Oh, vieni Mi pare che sono cose vecchie Non mi ricordo Non è che capito cosa deve dire Pi greco mezzi Mezzo Perché dove deve dire? Mi muore C'è l'altra parte Dovresti saperlo meglio di chiunque altro Visto che era esatto Esatto Ah, aspettate perché non mi sento sto sparando troppo Ah, sì, scusè, non mi sento, non ho capito Io sono dove iniziali si dividono Sono sbombata agli ultimi tre secondi Però E mi chiede per cercare di capire sto pigliarcomendo Sono molto umore Finché si parla di finché non ho ancora capito Esatto Oh, ragazzi, io quasi quasi Rizzo No Ho preso il terretto Andate in fronte al muro Tira un casino di vento a Cernaro Stira più una tetta felice di azoto Beh, quello senza l'uomo Una tetta di azoto? Minchia, sono esplosa male Che figata Eccoti Mamma mia con questa luce adombrata Prima di andare a letto Dilli di farci vedere le boobs Felicia Nome della femmina Della femmina Che nome hai, femmina? Donna Ma chi, io? No, io No, magari Angela Io, Valentina Te la contiamo, ora mi sa Con nome, così sto Eccola Certo Vedi, carta di credito Tac, stricciatina Tac Ciao 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 Ciao